ciao ragazze e buongiorno finalmente è arrivata l'estate e kajal ha pensato a voi creando praticamente 7 promozioni una diversa dall'altra per le vostre esigenze dalla parte relax alla parte estetica alla parte beauty e alla parte funzionale vi aspettiamo e vi invito andare a vedere il nostro sito per vedere quella migliore per voi un bacione e buona giornata